Ha subito tre rapine in un anno. Il giudice riconosce a una dipendente delle poste di Ponte Nuova, vicino a Ravenna, un indenizio di 87.000 euro. Le rapine con armi da fuoco e da taglio puntate alla gola avevano provocato una patologia di carattere psichico che l'aveva indotta a prepensionarsi e a chiedere all'Inail un indenizio. Le vennero concessi 4.000 euro, cifra ritenuta troppo esigua, che ha portato la donna a citare in giudizio le poste. E il giudice ha riconosciuto le poste responsabili per i mancati interventi, per la sicurezza dei dipendenti.